La vedi questa? È una mozzarella prodotto italiano, buonissimo, ottimo per il tuo bambino. Come gliela daresti? Così intera? Sbagliato! La mozzarella intera è esattamente un tappo per la gola del tuo bambino. La trachea di un bambino è a forma di cono e quindi è necessario che tu tagli la mozzarella prima di somministrargliela. La prendiamo, la tagliamo a metà ma non basta, neanche a metà ancora basta. Falla più piccola, più piccola che puoi. Ovviamente questo taglio lo farei anche per una mozzarella grande. Finché la mozzarella viene servita al tuo bambino ben tagliata e fredda non costituisce più un pericolo. Invece quando è inserita in un piatto della tradizione, quindi calda, tende a riagglomerarsi e può costituire di nuovo un problema, fare i filamenti e ostruirlo nuovamente. Quindi ti prego di prestare grande attenzione quando tuo figlio mangia.